RMG Connect. Parliamo di CRM. Come internet ha cambiato il modo d'essere di questa disciplina? Internet ha cambiato tante cose, non soltanto in queste discipline. Perché se ragioniamo di quello, le persone che hanno più di 25 anni hanno cambiato proprio la vita. Poi quando parliamo di quale sotto 25 anni per loro il mondo digitale, internet è parte della loro vita. E direi che già lì facciamo distinzione su come noi dobbiamo ragionare dal punto di vista di comunicazione. Perché in Inghilterra parliamo dei digital native, che sono queste persone sotto 25, e quelli sopra, come noi, sono i digital immigrants, per cui devono acquisire, c'è proprio il knowledge tool sull'internet. Per noi è cambiato molto perché, secondo me, ci sono due o tre fattori che ci facilitano notevolmente il nostro lavoro. Sull'internet noi abbiamo un accesso di informazioni che prima non esistevano. C'è proprio un volume che era impossibile immaginare avere. Per cui già questo ci aiuta nel lavoro che dobbiamo fare, perché se noi dobbiamo capire meglio il nostro cliente, il nostro target, digital ci aiuta contabilmente. Per cui l'accesso è il volume di informazione. Se leghi quello, anche ha la rapidità, velocità, cioè diciamo così, la velocità in cui riesci ad avere accesso a queste informazioni, vuol dire i nostri tempi di reazione e la nostra capacità di modificare anche dei programmi di comunicazione quando l'operazione è in atto, cioè è una cosa che prima non esisteva. E l'altro punto, probabilmente, che è soprattutto la parte dei nostri clienti, ha cambiato molto il loro modo di ragionare. e continuano, ovviamente, negli ultimi, direi, una mennezza, abbiamo notato in un modo particolare che il fatto dei costi, che sono molto più accessibili dal punto di vista dei clienti in confronto dei mezzi più tradizionali che hanno usato nel passato, questo vuol dire che ci sono più persone che stanno entrando, stanno provando, anche quando parliamo di un return on investment, per l'investment che fanno, per i retorni che possono avere, è un rendimento di risorse veramente interessante. Qual è il rapporto tra database e creatività? Vabbè, noi siamo un'agenzia che ovviamente non posso dire che non crediamo anche nella creatività, però, e poi quest'anno abbiamo avuto vari premi che ci soddisfino, però se siamo realistici, cioè la creatività è proprio il mezzo per un fine, perché la cosa fondamentale nel lavoro che noi facciamo è il lavoro di gestione del client base. E questo significa conoscere veramente bene il consumatore, andare sotto la pelle del consumatore per essere in grado di dire le cose giuste al momento giusto con il mezzo giusto, che sembra una cosa abbastanza facile, però se così fosse facile allora non esisterebbe delle agenzie come le nostre, aiutare i clienti proprio per farvi questo. Per cui è ovvio dire che c'è un bel mix di tutti e due, però, se sono oneste, il database probabilmente ha un'importanza maggiore, perché la patenza è lì e poi la creatività è limita proprio a massimizzare, cioè proprio quelle che abbiamo imparato alle basi. Qual è il ruolo del CRM, del direct marketing, oggi all'interno della comunicazione integrata? Beh, è uno dei mezzi che possiamo usare, cioè proprio perché ormai tanti usano i temi diversi, cioè through the line, media, neutral, quelli che vogliamo, però i fatti sono quelli, cioè non c'è più una girarchia come c'era una volta che c'è l'advertising e poi dopo tutto il resto. Sappiamo tutti che c'è un po' di cambiamenti radicali nel mondo della comunicazione e l'uso dei mezzi e in questo, cioè noi vediamo ogni mezzo come c'è proprio che funziona, cioè diverso, e poi il lavoro di ottimizzare i canali, per cui c'è l'optimization, come viene detto, è proprio uno dei lavori su quale noi lavoriamo, questo anche si riporta proprio a massimizzare l'investimento dei nostri clienti, perché se si devono spendere in euro, devono spendere bene e vogliono avere i ritorni. Per cui a questo punto tutti i mezzi hanno il loro valore e noi dobbiamo imparare a creare il mix perfetto nel cuore.